1-1 ragazzi, 1-1 e finisce così questa partita, purtroppo abbiamo iniziato il campionato in un modo non convincente, un po' come il precampionato che non è stato iper convincente quest'anno sinceramente, qualcosa va aggiustato, abbiamo più di qualche giocatore che non è al 100% fisicamente, comunque adesso ne parliamo, ne parliamo, vi parlo della partita, facciamo un po' di analisi e infine poi ci sono anche dei giudizi un po' sui singoli perché voglio citare qualche singolo, chiaramente c'è il discorso Bissec eccetera eccetera, comunque ci arriviamo, intanto vi ricordo che domani ci sono le pagelle e stasera, cioè verso le 21.45 c'è la live su Twitch per quanto riguarda il post partita, spazio alle domande, seguiamo magari anche il secondo tempo del Milan eccetera eccetera, comunque dicevo, partita che non mi ha convinto al 100%, l'Inter non è ancora, non la vedo ancora quella che conosciamo, ecco, ci sono anche dei giocatori su cui io ho delle perplessità quest'anno ma ci arriviamo, intanto parto col dire che oggi è mancato un po' Celanoglu, una cosa fondamentale, questo proprio dall'inizio, Celanoglu è mancato tanto, si è mosso molto poco, ieri vi ricordate che nel pre partita chiedevo, insomma uspicavo che Celanoglu si muovesse molto, si abbassasse anche in mezzo ai centrali, si impostasse a 4 in certi momenti, invece oggi è stato molto poco mobile rispetto a come siamo abituati, probabilmente, ecco prima dicevo che qualcuno non è al posto, ecco forse Celanoglu non è al 100%, oggi non mi è piaciuto molto, è stato un po' sotto tono e questa cosa chiaramente l'abbiamo un po' pagata in costruzione, in geometria, in possesso, in anche fluidità della manovra eccetera. Poi, vabbè, invece Bastoni già molto più dentro la manovra, soprattutto nel primo tempo, era lui che era il regista di fatto, è mancato appunto Celanoglu, però chiaramente Bastoni non è che può supplire la regia che c'è in mezzo al campo, quindi questo è ottima, molto bella l'azione che mi sono segnato al settimo minuto, quando eravamo ancora abbastanza freschi, con un lungo corto, lungo corto, lungo corto, siamo arrivati in fondo, insomma, abbiamo avuto anche delle belle azioni, abbiamo creato comunque, l'Inter ha avuto anche luce ed ombre, però ha fatto anche delle cose positive, è una partita dove comunque abbiamo creato più del Genoa di per sé, forse meritavamo qualcosina in più di loro, purtroppo il calcio non è matematico, anzi è uno degli sport meno matematici per quanto riguarda il risultato, altri sport sono un po' più fedeli, cioè il più forte vince, nel calcio non è sempre così, anche questo per certi versi il bello o il brutto per noi oggi. Il ritmo dall'inizio è stato abbastanza intenso, anche troppo, secondo me siamo partiti troppo frenetici, considerando il caldo, il tempo che c'era e tutto, bisognava un po' gestire le energie, siamo partiti troppo, con troppa frenesia, e poi abbiamo fatto molta fatica, infatti, a finire la partita. Io ho visto un po' questa cosa, e questa frenesia all'inizio, sì, ci dava un po' di palla che correva, però in realtà ci ha fatto commettere anche vari errori, passaggi un po' così così, eccetera, anche perché è vero che si giocava la palla molto veloce, ma il movimento delle gambe dei giocatori, cioè il movimento proprio, lo smarcamento, non è che fosse dei migliori, quindi c'era la palla che si giocava veloce, con frenesia, però con poco movimento reale dei giocatori nello spazio, no? E quindi siamo, il risultato che era, palla che correva veloce, tanti errori e tanta anche prevedibilità, perché si giocava sui giocatori, palla veloce ma sull'uomo e non nello spazio. Quelle poche azioni che abbiamo fatto nello spazio sono state molto interessanti, ma non sono per la maggiore, ecco, quindi questa cosa, insomma, sì, ripeto, il caldo, giocatori che non sono al 100%, insomma, tutto questo è un po' accondizionato. In ogni caso, grazie alla superiorità tecnica e tattica, siamo riusciti, ripeto, a creare di più di loro, e abbiamo pagato solo qualche errore. Nel secondo tempo, invece, il ritmo è un po' calato, in campo, più di qualche... però è calato, attenzione, non perché abbiamo deciso di ragionare di più, ma è calato perché alcuni giocatori si sono proprio fermati, arenati, ripeto, forse per il caldo, ma anche per la condizione. E vado a citare soprattutto Mkhitaryan, Darmian, ma anche Di Marco e Lautaro, giocatori molto... e ovviamente c'è la Noglu, all'inizio molto in difficoltà, molto in difficoltà questi giocatori, e sono stati tutti e cinque cambi quasi forzati, quasi forzati, perché non ne avevano, ripeto, Ciala, Mkhitaryan, Di Marco e Lautaro. Allora, se sappiamo perfettamente che Di Marco è un cambio quasi scontato sempre, Lautaro non era al 100% della forma, Darmian è un altro che non ne ha per fare tutta la partita ormai, da esterno, insomma, sei poi condizionato, no? Avevi cambi praticamente scontati e questa cosa ti ha un po' imprigionato. Motivo per cui ieri ho consigliato di mettere anche Dumfries dall'inizio, perché comunque ha un po' più di fitness, diciamo, rispetto a Darmian. Almeno avevi un giocatore in meno che era obbligato a cambiare, invece ti sei proprio messo nella condizione peggiore, ecco. E infatti questa cosa si è vista in mancanza di fiato dall'inizio e poi alla fine, insomma, nel secondo tempo, ritmo basso, errori, Lautaro molto poco presente, sì, qualche cosa, ma poca roba, no? Ecco. Siamo finiti poi con il 3-4-3, che comunque è stato un rischio, era un rischio, che ha pagato l'inizio, però poi alla fine non l'abbiamo portato a casa, quindi era un rischio molto, è stato un rischio molto, molto grande, ci siamo molto sbilanciati, è vero che poi abbiamo trovato il gol, bellissima azione tra Fratesi e Turamma, però è vero che abbiamo anche, prima di fare il gol, abbiamo subito 3-4 situazioni in campo, anche aperto, dove il centrocampo non esisteva, perché il centrocampo è Barella-Fratesi, Fratesi è un attaccante, cioè lo mette al centrocampo ma di fatto è sempre in attacco, Barella era stanchissimo e comunque non è un mediano, insomma, era un centrocampo a 1 praticamente, cioè valevano metà Fratesi e Barella, Fratesi per questioni tattiche e Barella per stanchezza, quindi insomma il centrocampo veramente sbilanciatissimo, siamo riusciti a fare il gol ma potevamo anche prenderlo, alla fine poi l'abbiamo preso dopo, ecco, perché comunque ci siamo schiacciati e i giocatori comunque in campo erano stanchissimi e un infortunio e poi ne parliamo nello specifico di Bissec, però, prima voglio dire il primo gol ragazzi, il primo gol preso su punizione, eroraccio chiaramente, papera di Sommer che sbaglia assolutamente la scelta di arretrare troppo dentro la porta e paga, o forse fa anche questa scelta, ma comunque paga la sua poca altezza, lo sappiamo tutti, Sommer ha dei punti di forza, però è un metro 82, un metro 83, per un portiere serie A è poco, è basso, è piccolino e quindi su palloni magari anche lenti alti così paga e quindi non si sente di andare, di saltare, deve arretrare per lasciare che la curva vada giù del pallone, però questa cosa gli ha fatto commettere questo errore, papera, papera assolutamente, oggi Sommer ne ha fatti due o tre, e però l'azione, perché poi mi dispiace, ho sentito i cronisti che io ormai non tollero più, mi dispiace perché Starmacioni mi stava anche un po' simpatico, aveva fatto qualche telecronica, lì ho sentito negli ultimi mesi, così, anche discreta, per oggi è veramente un disastro, tanti sfondoni, tanti errori, tanti giudizi, secondo me faziosi, o se sono in buona fede è per ignoranza, o per poca, poca capacità di lettura, proprio, non mi frega niente che è un allenatore di serie A, non c'entra assolutamente, questo è principio di autorità, bello e buono, l'ho spiegato tante volte, inadeguatezza, oppure è, e che secondo me è più la seconda, è malafede, ma la malafede non volontaria, ma la malafede sottile, cioè, quel, adesso vi spiego a cosa mi riferisco, chiaramente a dare la colpa a Bissek, ecco, la colpa a Bissek sul primo gol della punizione, colpa su, è andato in ritardo, cazzi e mazzi, cazzata ovviamente, assolutamente cazzata, adesso vi dico l'azione, ma il punto è che lì, secondo me, cioè, siccome la colpa era di Acerbi, se dovesse, a parte la papa era di Sommer, che secondo me è l'80%, però gli altri due che c'entrano sono Lautaro in primis, e poi Acerbi, che però hanno una colpa minuscola, Lautaro e Acerbi, però, tra quello che non ha seguito l'avversario è Acerbi, siccome Acerbi sarà perché è italiano, sarà perché è nazionale, sarà perché è carriera di lungo corso, quindi ha un rispetto, almeno in Italia, bisogna dare la colpa a Bissek, no, perché è una cosa, secondo me, non volontaria, ma è un riflesso incondizionato, così, che c'è, che c'è, che c'è, è un riflesso condizionato che hanno i cronisti a volte, io ho questo sospetto, Bissek non c'entrava Nasega, anzi, è colui che ha provato a metterci una pezza su quell'azione lì, non era suo l'uomo, era di Acerbi, che si è addormentato, e poi con riflessi lenti, eccetera, si è perso l'uomo, e in primis dicevo Lautaro che si è fatto anticipare nel colpo di testa, prima ancora che la palla andasse verso la porta, però l'80% è Sommer, non c'entra nulla Bissek, questa cosa mi dà fastidio, cioè, giudizia, cazzo di cane, un po' mezza per simpatia o ignoranza, ne ho le palle piene, l'hanno ripetuto 4-5 volte, e che cazzo, andiamo sui singoli, Turam, ragazzi, oggi il più in forma, il più decisivo, si vede che ha fatto un po' più di prestagione anche, ma in ogni caso decisivo, come dicevo ieri, l'attacco alla profondità, a giocare con le punte in verticale, lui ha fatto la differenza, bellissima partita di Turam, poteva fare anche, peccato, anzi, in realtà l'aveva fatto il gol, poi in fuorigioco, poi in realtà poi convalidato, ma bellissimo, bellissimo il gol, ma anche altre azioni, tanta roba. Su Di Marco, continuo a dire quello che ho detto nel pre-stagione, forse perché si è galvanizzato dall'anno scorso, comunque ha fatto un'ottima stagione, titolarità indiscursa, e anche tanta libertà in campo, dove poi ci ha messo del suo, secondo me è più suo che non di Inzaghi, il fatto di, sì, esterno, però poi si butta dentro, è molto libero, va a fare quasi il trequartista, ha preso molto gusto, ecco, oggi però ne ha preso troppo di gusto, nel senso che da un po' di tempo questa cosa la fa in maniera continua, e troppo, troppo, lo fa troppo, e questo continuare a vogare per il centro del campo, andare dentro, andare dentro l'area, ma non dall'esterno, ma per linee interne, ad aggiungersi, fare praticamente la seconda punta barra trequartista, eccetera, o mezz'ala offensiva, francamente, ha rotto un po' gli zebbi dei, basta, basta, cioè non vuol dire non farlo, ma limitalo, fallo quando ha senso, non sempre a prescindere perché si fa trasportare dal piacere di farlo attaccante, è un esterno sinistro, principalmente, se stringe sempre, manca ampiezza, e quindi il bastone deve fare il doppio ruolo, siamo scoperti fuori, si fa più fatica a costruire perché c'è troppo ingolfamento davanti, questa cosa a volte può essere controproducente, da essere un elemento in più che dà imprevedibilità alla squadra, può diventare controproducente, quindi mi raccomando, Di Marco, lo so che è bello andare là in mezzo, però, sì, non sei trequartista, serve anche dare ampiezza, soprattutto quando, cioè, la no glutima manca un po', serve costruire, serve almeno, cioè, l'ampiezza è importante per costruire, per gestire, fare le catene, tutto, se tutti puntano, convergono dentro, è più complicato, oppure si dispone più a rischi più che altro, se portano troppe persone dentro, allora hai bastoni che deve fare la fascia, però se un uomo è indietro, le cose vanno un po' a complicarsi, bisogna, ecco non dico di non farlo, ma bisogna pesare, quando e come, Bissek, ecco, capitolo Bissek ragazzi, allora, Bissek ha fatto una ottima partita di per sé, chiaramente viziata in fondo da quell'errore, però, ottima partita, in cinque minuti dal, cos'è, il quarantesimo, ha procurato un rigore, poi, non dato giustamente, ma insomma, ha fatto una giocata da rifinitore pazzesca, sul centro-sinistra, in attacco, eccetera, poi sgroppata sull'esterno a mettere pressione con spinta, poi, pressing alto, va a recuperare la palla, quasi gol, parata del portiere su Lautaro e poi su Di Marco, ma insomma, anche lì, poi un altro colpo di testa, quasi, quasi, insomma, Bissek sempre pericolosissimo, va sempre tanto in avanti, gioca benissimo, grande personalità, eccetera. Attenzione però, come dicevo, anche qui, nel pre-partita, nel pre-partita scuola, nel pre-stagione, l'ho detto tante volte, e questo è legato al discorso d'Armianna, ecco, è arrivato, Bissek, stremato in fondo la partita, stremato, perché non ne va più, ovviamente, poi, infatti, anche per quello che commette l'errore, no? Per quello proprio l'errore di stanchezza, non ce la fai più, provi a saltare, sei scordinato perché non ne hai più la forza, no? Ci provi, ma... e quindi commetti l'errore. Poi, volontari, ovviamente, c'è una coincidenza, succede, sono infortuni che possono capitare, però succedono quando magari sei stanco morto, e cerchi comunque di non mollare, e succede che fai l'errore. Allora, però, il problema principale, non è tanto Bissek, ma è il fatto che debba fare, forzatamente, questo è un problema tattico di Inzaghi, che deve capire, cazzo, moto, mi incazzo come una bestia, perché è proprio un'inefficienza di gestione delle fisiche, tattiche fisiche, proprio un'inefficienza bella e buona. Bissek, ancora più di bastoni, ancora più di bastoni, che comunque spesso veniva cambiato, infatti, perché poi da tanto stanco e via, Bissek fa, bitgli più ancora di bastoni, non fa un ruolo in mezzo, fa proprio due ruoli in uno, e non è... è difficile farlo per tutta la partita, soprattutto quando è il 16-17, agosto, con 40.000 gradi, è praticamente disumano, è impossibile farlo questa roba qua, è complicatissimo, quindi chiaro che arrivi alla fine che sei stremato, e se non hai il cambio, il giocatore è in grande difficoltà, gli ultimi dieci minuti è stato in grande difficoltà Bissek, ma non per colpa sua, non ne aveva più, ha fatto il doppio per tutta la partita, e perché deve fare il doppio? Perché gioca con Darmian davanti, Darmian, giocatore, ripeto, che mi sta simpatico, super diligente, professionista, ma ormai non dà più quella frizzantezza, quella gamba, eccetera, quindi Bissek deve correre per fare il difensore, per fare il braccetto, per impostare, per venire fuori dalla difesa, per inserirsi in attacco, per fare pure l'esperno, too much, too much sta roba qua, too much, troppa roba, troppa roba cazzo, quindi lì non è problema Bissek, è che deve esserci un esterno, Bissek non può fare due ruoli, non può fare due ruoli in uno, avanti, indietro, perché manca un esterno, si mette un cazzo di esterno, ecco perché dico, Doomfries con i suoi limiti, ma almeno Doomfries ha la gamba, e lo fa all'esterno, cazzo, no? Questo è un problema, poi arrivi in fondo, e Bissek, commette il fallo, è distrutto fisicamente, e non è colpa di Bissek però, cazzo, è questione delle risorse, della gestione delle risorse lì, no? Quindi, questo è, e dipende non tanto da Bissek, ma appunto dal discorso d'Armianna, e questa è una cosa che va capita, cazzo, va capita, e aggiungo, sarà ed è un sacrilegio enorme, e io qua farò una campagna di non so cosa, se succedesse, avviso subito, avviso subito, sarebbe un sacrilegio atomico, anzi pluriatomico, se questa coincidenza di errore che ha commesso, non per causa primaria sua, ma per gli effetti, no? Di un'altra causa, che non è colpa sua, dicevo, discorso energie, eccetera, sarebbe un delitto, se, a causa di questa infortuna, di questa coincidenza, dovesse perdere la titolarità, e perdere fiducia del mister, per cui, se ritorna, a preparare il titolare, che comunque merita, per carità, però Bissek torna a fare il panchinaro, e non che viene utilizzato anche in altri modi, quindi in parte esterna, eccetera, ma proprio il panchinaro, sarebbe un delitto atroce, perché ad oggi, a parte oggi, che Turan ha fatto benissimo, è stato comunque il secondo migliore Bissek, anche oggi, e per tutto il pre-campionato, è stato il migliore, indiscusso, quindi è un giocatore, che merita ancora di giocare, di avere fiducia, che questa cosa, non condizioni, l'opinione su di lui, perché sarebbe un'ingiustizia bella e buona, oltre che una valutazione proprio cretina, per non dire altro, una valutazione sbagliata, e io temo di questa cosa, perché? Perché la causa primaria, come dicevo, sul Bissek, la stanchezza e tutto quanto, perché è palese, non è ancora percepita, cioè, il problema che Darmian, è un giocatore utile, ma non può essere il titolare, perché, ecco, soprattutto, se poi questo condiziona altri E, questa cosa non è ancora percepita, ed è un problema, cazzo, è un problema, se noi capissimo che Bissek, può fare anche l'esterno, ma soprattutto torniamo con Dunfries, eccetera, eccetera, l'Inter può potenziarsi un po', perché, poi il mercato non è che ci ha potenziato, in maniera enorme, francamente, perché poi adesso arriviamo, altri cominciano a perdere colpi, quindi alla fine si livellano cose, Bissek, capire come sfruttarlo meglio, come utilizzarlo ancora meglio, di come già lo utilizziamo, da braccetto, ma capire che può fare anche qualcos'altro, può essere una robettina, che ti va a potenziare, in realtà, no? Perché ti dà alternative in più, e doppio ruolo, e lo sfrutti un po' di più, siccome è un giocatore forte, forte, cerchiamo di metterci nella condizione, di usarlo di più, visto che sarà, coperto da Pavard, di fatto, bloccato da Pavard, e finisco con chi cala, Mkhitaryan oggi, chiaramente, è in difficoltà, non vorrei che sia un principio di, del fatto che comunque un anno in più, e tutto, però, vabbè, su lui, alziamo le mani, a Cerbi, ormai la quarta, quinta partita, di questo pre-campionato, e poi adesso campionato, e già alla fine dell'anno scorso, era in calo, io credo che a Cerbi, stia cominciando a declinare, oddio, no, stia continuando a declinare, perché già l'anno scorso, ha declinato leggermente, dall'anno prima, sempre dando comunque, performance all'altezza, per carità, però in leggero calo, e lo vedo ancora più in calo adesso, lo vedo in declino, ma normale, non è colpa sua, è normale, è prevedibile, l'avevo già detto, è normale, è da aspettarselo, sta perdendo reattività, sta perdendo agilità, sta perdendo ritmo, avendo meno ritmo, meno agilità, meno reattività, chiaramente è più affaticato, è più in difficoltà, nel giocare a certi livelli, ritmi, eccetera, eccetera, e questo, gli fa commettere più errori, con la palla, senza palla, eccetera, eccetera, quindi attenzione, actung, actung, si dice così in inglese, actungbite, attenzione, prego, attenzione, a questa cosa qua, già un po' capire, è vero che poi hai preso, i nischi, però, in mezzo lì, perderai qualcosa, anderai fuori, infortuni, acerbi, cala, attenzione, attenzione, e poi c'è Darmian, stessa cosa, simile per acerbi, chiaramente Darmian cala meno, però gioca in un ruolo anche più dispendioso, quindi comunque si vede questo calo, stessa cosa, un giocatore ormai posizionale, invece di fare errori, magari fa più falli, perché non ci sta dietro, e quindi fa superare, fa il fallo, però anche lì, ripeto, bisogna capire un po', solo che sulla destra, ci sono possibilità, di sistemare le cose, perché Dumfries, perché Bissek, perché Buchanan, quando tornerà, perché, anche lì non capisco, perché fosse considerato, sinistro, invece che destro, si poteva avere, la fascia destra, copertissima, Buchanan, quello agile, di qualità, eccetera, a destra, e Dumfries, quello fisico, e siamo perfetti, invece no, se andiamo a complicare le cose, perché pensiamo che Buchanan, deve giocare a sinistra, e vabbè, e niente, questo è un po' il tutto, comunque, ripeto, l'Inter ha, in realtà, meritava qualcosa in più, però, chiaro che io, cerco sempre di guardare, le cose che sono migliorabili, non guardo le cose, che già funzionano, le cose che abbiamo fatto bene, si complementi, ma, testa alle cose, dove si possono, dove si può migliorare qualcosa, e trovare, grattare un po' di margine, va bene ragazzi, post partita, lunghetto, ma tutto bello denso, di contenuto, quindi insomma, cose ne abbiamo dette, domani pagelle, per un'oretta, quello che è insomma, live, su Twitch, vi do appuntamento, ragazzi, a presto, lasciate like, commentate, condividete, e attivate le notifiche, perché adesso, quasi un video al giorno, si parte a manetta, si riparte a manetta, vabbè, insomma, una partenza un po' così, in realtà, non quella mia, ma quella del campionato dell'Inter, una partenza un po' così, bisogna, bisogna migliorare, varie, varie robettine, mi raccomando, che non si perdano punti troppo all'inizio, perché sono, azi, amari, a presto, forza Inter comunque, a presto,